io avevo un figlio lo sai pietro un bambino che rideva sempre rideva così forte che quando giocavamo a nascondino mi bastava di lì che stava arrivando poi una sera è venuta la febbre alta Cecilia lo voleva portare in ospedale e io gli ho detto che esagerava invece era beningita e fulminante e anche se non c'era più niente da fare io da quel giorno penso che se lo avessi portato in ospedale magari chissà magari da lì è stato difficile guardarsi negli occhi poi del mio lavoro non mi fregava più niente mi sono messo anche a bere e poi non so se mi sono mai ripreso è la prima volta che mi piace questo lavoro sai oh dai 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 che puoi fai tardi dai